Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento di Meteo.it. Durante il fine settimana saremo raggiunti da una nuova perturbazione, la numero 5 del mese, che porterà un peggioramento del tempo con piogge sparse alle nord, regioni del versante tirrenico e la Sardegna. Allora diamo insieme uno sguardo dettagliato alla previsione per la giornata di sabato, quando avremo molte nuvole in tutto il territorio, con piogge sparse nel corso della giornata su Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Occidentale, localmente Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. Il tutto con temperature massime che durante il fine settimana caleranno leggermente al nord e subiranno poche variazioni nel resto del territorio, con valori che saranno ancora dal sapore decisamente mite al sud e in Sicilia. Per maggiori dettagli vi ricordo di scaricare la nostra app Meteo.it.